GF, crisi superata per Chicca Rocco e Giovanni Masiero, annuncio a detto fatto Francesca Rocco e Giovanni Masiero hanno superato la crisi, l'annuncio di lei nel programma detto fatto di Caterina Balivo Qualche settimana fa Francesca Rocco era stata ospite del programma Verissimo. Durante l'intervista, l'ex Steffina aveva ammesso di soffrire tantissimo a causa di un periodo molto difficile con Giovanni Masiero I due sembravano molto affiatati ma, improvvisamente, qualcosa è andato storto. La crisi tra i due è cominciata dopo la nascita della loro piccola Ginevra L'ex concorrente del cancelletto Grande Fratello non era riuscita a trattenere le lacrime e, ospite da Silvia Toffanin, aveva mostrato la sua preoccupazione per questa situazione difficile e complicata. Ma andiamo a scoprire le ultime novità su Chicca e Giovanni Masiero GF, l'ex concorrente Chicca Rocco Modella ha detto fatto. Le cose però adesso sembrano essere tornate come prima. A confermarlo è stata proprio lei che, ospite del programma detto fatto, ha annunciato che la crisi è rientrata. Nella puntata di ieri del programma di Rai 2 Chicca, concorrente del Grande Fratello nel 2014, ha partecipato come modella, in particolare, le è stato fatto un make-up ideale per il compleanno della sua bambina. Proprio per questo, Francesco Rocco ha colto l'occasione per ricordare che la sera avrebbe festeggiato anche il compleanno del papà Giovanni, nato lo stesso giorno della piccola Ginevra. Chicca e Giovanni Masiero, niente più crisi, l'annuncio di lei da Caterina Balivo. A quel punto la conduttrice Caterina Balivo ha colto l'occasione per chiederle come andassero le cose dopo la crisi avuta dopo la nascita di Ginevra. Non ci siamo lasciati. Ogni tanto stare separati fa bene, fa capire l'importanza del compagno. Ti permette di riflettere e di sentire la mancanza perché a volte siamo presi dalla cosa quotidiana e non ci accorgiamo, queste le parole di Chicca ha detto fatto che ha spiegato quanto in un rapporto conti il dialogo. L'ex Stefina ha ammesso che gran parte dei litigi avveniva per motivi futili ed erano causati dalla stanchezza che porta a crescere una bambina. I due quindi adesso vivono il loro matrimonio con serenità e felicità. Come ammesso dalla stessa Chicca, può capitare che una donna, dopo il parto, attraversi un periodo un po' difficile. Non ci resta che augurargli che le cose restino così per sempre. Magari chissà i due staranno pensando di suggellare questa nuova pace con l'arrivo di una sorellina o un fratellino per Ginevra? Non ci resta che attendere per scoprire eventuali dettagli al riguardo.